A Dischiaponte è una pesca di beneficenza che sarà aperta fino a metà agosto. Allora parliamone, dove si trova, come si partecipa? Sì, è situata proprio nel piazzale aragonese, quello proprio antistante il pontile, un locale che insomma gentilmente abbiamo avuto in uso. Questo è una pesca e mostra, praticamente è la classica pesca di beneficenza, si estrae il numerino, ci sono tanti regali di tutte le varietà, accontentiamo dai più piccolini alle donne in casa, abbigliamento, scarpe, fornitissima. In mostra cosa ci sono? In mostra ci sono dei lavori artigianali, lavori di ricamo, uncinetto, maglia, centri, tovaglie ricamate, completini per neonato, scialli, veniteci a trovare perché veramente sono... Questi non sono acquistabili oppure si può fare un regalo perché la pesca di beneficenza ovviamente è ricavato, sarà devoluto a, diciamolo? Sì, è devoluto praticamente ai nostri fratelli più bisognosi, nella fattispecie diciamo noi abbiamo delle adozioni a distanza, sosteniamo dei progetti missionari, case famiglia, si aiutano appunto delle famiglie che non hanno possibilità di far studiare i bambini, all'estero, in Bolivia per esempio, nei paesi latini, insomma sono un po' in giro per anni, saranno più o meno una ventina d'anni che va avanti questa cosa, con enorme successo, grazie veramente alla generosità dei nostri concittadini, dei turisti che ogni anno ci sono, abbiamo pure degli ospiti abituati, che ogni anno ci vengono a cercare perché a volte ecco capita che la location cambia, quindi loro comunque si informano, vengono, ci vengono a trovare e ci sostengono, sono molto generosi, veramente, grazie, grazie di cuore.